Abbiamo fatto una partita in 20 minuti, fino adesso penso che c'è bisogno di qualche partita per cercare di capire se questa squadra ha un po' assimilato quello che io voglio dai ragazzi. Domani ci sarà un'altra partita dove pian pianino bisogna lavorare su quei concetti che io sto cercando di trasmettere alla squadra e pian pianino spero che si arrivi a sviluppare il gioco con il coraggio ma bisogna usare, bisogna usare perché questa squadra ha le qualità per poter fare un tipo di gioco e domani sarà l'occasione di migliorare un po' questo percorso che devo dire negli allenamenti la squadra riesce ad esprimere delle cose importanti però sappiamo che la partita è una cosa diversa e diventa un po' più difficile rispetto a quello che è il discorso allenamento però penso che siamo sulla buona strada. Al di là di chi entra in campo io ho massima fiducia dei ragazzi perché lavorano tutti quanti con grande intensità con voglia di apprendere e di dimostrare e questo per un allenatore poi diventa molto più facile difficile nelle scelte ma molto più facile nell'aspettarsi dalla squadra una prestazione importante. L'Atletico è una squadra che gioca, che ha coraggio di costruire, è una squadra che non dà punti di riferimento ed è sempre difficile affrontare questi tipi di squadre però noi dobbiamo giustamente dare il massimo per cercare di portare a casa il risultato e ci vorrà una grande prestazione. Poi questo è un campionato che comunque domenica dopo domenica vediamo sempre dei risultati particolari non c'è nulla di scontato in questo girone. L'Atletico Ascoli è una squadra che mi piace molto come gioca perché è il tipo di squadre che hanno il coraggio di costruire, sviluppare e fare bel gioco per questo c'è la nostra massima stima per l'Atletico Ascoli ma ci sarà la nostra grande convenzione di cercare di portare a casa il risultato.